Buon pomeriggio a tutti. Ringrazio il Presidente della Repubblica Mattarella per avermi affidato un mandato esplorativo che come avete già visto ricerca la possibilità di una maggioranza parlamentare tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico al fine di costituire un governo. Mi metterò al lavoro da subito e secondo me è un punto fondamentale che si deve partire dai temi per l'interesse del Paese e dal programma per l'interesse del Paese ed è quello che cercherò di fare da subito. Grazie a tutti. Applausi 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 Applausi